Salve, in questo video affronterò il Chroma Key, un'altra delle tecniche base del compositing. Per prima cosa, come al solito, una spiegazione della configurazione del plugin, poi passeremo agli esempi pratici nel prossimo video. Consiglio, per capire meglio, dei video molto chiari e completi per introdurre l'argomento. I link li lascio in descrizione. Adesso presento un workflow professionale, più adatto a Netron che a Senelera in verità, ma come approccio teorico va più che bene anche per noi. Ne parlerò in via teorica e poi lo applicheremo nel prossimo video con un esempio. Ricordiamoci sempre che è bene partire da filmati già di alta qualità e girati con tutti gli accorgimenti utili per il lavoro di post-produzione. Questo vale non solo nel caso del Chroma Key, ma per tutti gli scopi, color correction, rotoscoping, ecc. Infatti non è possibile migliorare filmati mancanti di informazioni, come per esempio neri chiusi e bianchi bruciati, ma anche perché non è possibile fare lavori precisi su filmati che hanno problemi gravi e irrisolvibili. Per il Chroma Key, per esempio, sfondi grinzosi e non omogenei di verde, ombre ed elementi estranei, o così via. Tutti questi problemi porteranno non a risultati mediocri, ma a risultati sbagliati too curt. Lo vedremo bene nel prossimo video. Illustriamo adesso i passi del workflow. 1. Applicare il Denoise al nostro filmato in green screen. Attenti a non esagerare per non perdere i dettagli, i capelli per esempio. È importante infatti ottenere il verde del green screen più omogeneo e pulito possibile. In Senelera, il plugin migliore che ho trovato è quello della media temporale adattiva, ma non quello originale del programma, che non so perché non mi funziona, bensì quello di FFmpeg, che si chiama FATA Denoise, oppure in alternativa si può usare FHUDN3D, ma ce ne sono molti altri in verità. Passo 2. Renderizzare il filmato come intermedio di alta qualità. In questo modo avremo il nostro filmato senza portarsi dietro il filtro Denoise, che è piuttosto pesante. 3. Individuare la luminosità principale del green, cioè quella maggiormente presente. Infatti, nella realtà, sono sempre presenti zone molto diverse, dovute ad ombre, pieghe, elementi estranei, illuminazioni non omogenee, eccetera. In questi casi dovremo ricorrere a lavori più complessi, come l'uso del Cry Key o del Rotoscoping, eccetera. Si può provare anche Blue Banana, creando una selezione precisa del colore e trasformandola in maschera oppure rendendola completamente trasparente. Per avere valori numerici indicativi si può usare, in Senelera intendo, in Netron si vede automaticamente, si può usare, dicevo, il contagocce. Valori di verde con differenze di 0,1 fino a 0,4 sono accettabili. Valori superiori richiedono o aggiustamenti vari o più che in. In realtà, come vedremo, Senelera passa sopra questo problema come un rullo compressore, unificando anche i toni abbastanza diversi e rendendo difficile una regolazione fine. Il lato negativo sarà quello di perdere dettagli sui bordi e quindi ottenere uno stacco innaturale e frastagliato fra figura e sfondo. Punto 4 Adesso bisogna estrarre la Core Key, però prima volevo parlare, a titolo di informazione, della prassi professionale che consiste nell'Adjustment Screen, ovvero uniformare il verde dello schermo, nero nel canale alfa, che raramente sarà ideale, anzi mai. La fase di Adjustment Screen è importante farla bene e con precisione, perdendoci molto tempo perché facilita l'estrazione della figura nelle fasi successive. Questo vale in Netron però e non in Senelera, in cui possiamo fare interventi molto limitati e grossolani. Si procede togliendo tutto il rumore dal nero del matte, ricorrendo anche al rotoscope se vogliamo isolare e lavorare su piccole zone specifiche o all'uso di più key. Inoltre si può alzare il gamma con il relativo plug-in per rendere l'immagine più estrema nel rendere evidente il rumore. Il maggior lavoro riguarda i bordi tra figura e sfondo, che devono essere precisi, evitando di perdere i dettagli, per esempio fili di capelli o altri piccoli particolari. È un lavoro lento, noioso e difficile, ma è importante e quindi non va trascurato. In Senelera, come detto, questa fase è veloce ma imprecisa e si fa usando lo slider della tonalità. In pratica, o si ricalca fedelmente la forma della figura, mantenendo tutti i dettagli ma lasciando una spessa zona verde intorno ai bordi. Oppure si riduce tale zona al minimo, ottenendo però bordi frastagliati e innaturali e la scolparsa dei dettagli. A voi la scelta. NETRON, invece, offre moltissimi strumenti per fare un lavoro estremamente preciso, però è lungo e complicato. L'importanza dell'adjustment screen non riguarda soltanto l'ottenimento di una buona key, ma anche il fatto che vale per tutto il filmato. Quindi, mentre la figura si sposterà con i suoi movimenti su altre parti dello sfondo, non omogenei fra loro, non ci sarà bisogno di rifare una nuova soft key perché il lavoro di omogenizzazione è già stato fatto. Comodo, no? Ma, ripeto, in NETRON, non in SINELERRA. Ritorniamo al nostro workflow. Punto 5 È il momento di creare il primo matte, cioè il canale alfa, in modo veloce e grezzo, applicando la key. Verrà sicuramente impreciso e rumoroso, ma non importa a questo punto. Lo chiameremo core key. 6 Si può adesso passare alla fase del soft key, in cui rifiniremo il matte della figura, lavorando soprattutto sui bordi e cercando di preservare il dettaglio e poi sfumando adeguatamente. Anche questa è una fase delicata, ma non difficile in NETRON, visto che il lavoro maggiore l'abbiamo fatta con la Just Man Screen. Invece in SINELERRA è una parte difficile, per non dire impossibile, nonostante ci siano diversi slider di regolazione. Ma non scoraggiatevi troppo. Riuscire ad ottenere risultati sufficienti o anche buoni è alla nostra portata. Ottenere risultati professionali da casa cinematografica, invece, è proprio impossibile. Punto 7 Adesso passiamo alla fase di DESPILL, cioè rendere neutri, insomma grigi, i colori di dominante verde che rimangono sui bordi della figura. Specie se presenta trasparenze e dettagli molto fini. In NETRON è abbastanza facile ottenere un buon risultato, anche se è lungo e laborioso, mentre in SINELERRA, pur esistendo l'apposito slider, non si ottiene praticamente mai un risultato sufficiente. Ricordatevi che questo passo va fatto usando come sfondo la clip reale che useremo come traccia per il lavoro finale, in modo da avere un confronto utile. Punto 8 Applicare una sfocatura al canale alfa E il passo finale è imprescindibile, ma non aspettatevi miracoli. Infatti, se esageriamo, creiamo una specie di alone, cioè di areola fantasmatica intorno alla figura. 9 Finito il lavoro di keying, dobbiamo testare il risultato su diversi sfondi. Queste semplici immagini devono essere varie per ricavarne indicazioni utili. Si può, per esempio, usare uno sfondo scuro o uno sfondo chiaro, uno colorato, uno omogeneo e uno con molti piccoli particolari. Infatti, anche in matte che ci sembrano perfetti quando lavoriamo in modo soleato, possiamo notare brutti contrasti di luminosità e o di colori ai bordi una volta che vengano inseriti su background reali. 9 Infine, anche se la fase di key è terminata e abbiamo inserito la figura nel nostro filmato, dobbiamo sempre omogenizzare la luminosità e i colori delle due diverse fonti, cioè sfondo e figura. Difficilmente i parametri di una saranno uguali a quelli dell'altra. Questa è una fase di color correction o meglio color matching e non di chroma key come abbiamo visto finora. Il neutron è facile, basta leggere i valori del punto del bianco e del nero dello sfondo e imporli ai punti del bianco e del nero della figura. Al massimo saranno necessari dei piccoli aggiustamenti. Invece, in Sinellerra dovremo usare vari filtri di correzione colore, luminosità e contrasto e vari altri, senza però avere un riferimento oggettivo, cioè numerico, su cui basarci. Per capirci, Waveform Parade e Vectorscope non servono in questo caso. Però si può usare qualche plugin di FFmpeg che finora non avevo mai considerato e invece funzionano bene una volta presa la mano. Nel caso del color matching si usa F-Color Levels che permette di ottenere una buona base su cui lavorare. Considerazioni finali Ho parlato solo di casi statici per mostrare al meglio le problematiche del keying. Nella realtà, però, dobbiamo affrontare casi dinamici, cioè che evolvono con lo scorrere del tempo. In questi casi le cose si fanno rapidamente complicate. Ci possono essere movimenti di macchina insieme al movimento della figura. La figura si può sovrapporre ad altri elementi e venirne parzialmente e temporaneamente coperto. La figura può uscire completamente dallo schermo e può rientrare in un secondo tempo. Ci possono essere più figure indipendenti da seguire contemporaneamente e così via. I casi sono tantissimi. Sono grossi problemi impossibili da risolvere completamente in sinelera e difficili anche, devo dire, con software dedicati. La cosa migliore in ambito professionale è eseguire delle buone riprese che minimizzino tutte le problematiche, quindi scogitare inquadrature adatte per semplificare la fase del post-processing. Non affronterò questi casi, principalmente perché non ne sono capace, ma anche perché sinelera non è indicato per la maggior parte di queste situazioni. Lo abbiamo già visto in ambito di tracking e lo vedremo, forse, anche nell'ambito del rotoscoping avanzato. Nella filosofia di New Linux è normale usare più strumenti ognuno adatta ad uno specifico scopo. Nell'ambito dell'open source abbiamo l'ottimo Nestron e non vedo nessun problema ad utilizzarlo. Se abbiamo bisogno di un ambiente 3D, per esempio per un camera tracking o per effetti particellari o per creare figure 3D da inserire nel filmato, abbiamo a disposizione il magnifico Blender. Quindi, che vi devo dire? Se volete fare cose complicate, dovete imparare più programmi complicati. Sinelera è uno di questi e nel suo ambito non soffre di inferiorità nei confronti di nessuno. Oltretutto, grazie a continui aggiornamenti del bravo Good Guy, il programma è oggigiorno attuale e moderno e non più una reliquia del passato come tanti credono. È tutto per questo video. Nel prossimo faremo un esempio pratico, il più approfondito e chiarificatore possibile.